Musica Ciao ragazzi ben ritrovati di nuovo sul mio canale E si ragazzi intanto voglio farvi tanti auguri il 25 aprile la festa della liberazione dell'Italia ragazzi quindi tanti auguri a voi a tutti quanti a tutti gli italiani comunque auguri Ragazzi grazie ancora per il supportazzo che mi state dando e ben ritrovati di nuovo sul mio canale Oggi ragazzi come leggete nel titolo cosa andremmo a fare in questo episodio di Ship Graveyard Simulator Dobbiamo ricontinuare tutto quello che avevamo fatto un po' nello scorso episodio Avevamo preso una nuova nave avevamo comprato nuove attrezzature e volevamo fondere alcune leghe particolari per upgrade delle altre strutture Anche per mettere più operai da poter utilizzare nei prossimi lavori o nei prossimi depramenti delle navi Quindi andiamo a fare il continuo e andiamo a caricare la nostra partitazza e vediamo oggi in questo gameplay cosa possiamo fare in più Ovviamente ragazzi io dobbiamo andare a vedere un po' cosa volevamo fare Avevamo preso una nave più grande che ci costa anche di più al giorno Ci costa circa 200-300 dollari in più però non fa niente Noi dobbiamo vedere cosa vogliamo aggiornare ma soprattutto cosa vogliamo fare Quindi dipende là tutti i materiali anche da fondere perché dobbiamo comprare l'attrezzatura Che abbiamo comprato l'attrezzatura è vero abbiamo comprato anche l'ultimo Anche il fornello a gas che possiamo togliere anche altre cose Quindi andiamo a guadagnare anche altri materiali per fondere alcune leghe particolari alla nostra fornace Quindi andiamo a vedere un po' tutto quanto ragazzi Quindi io vi ricordo ragazzi se volete essere salutati nei prossimi video registrati Venite sul mio disco d'ufficiale e io ogni tanto andrò in chat pubblico e dire ragazzi Chi volesse salutare che sto registrando potete essere partecipi anche voi E potete essere salutati anche nei prossimi video Quindi venite ragazzi sotto iscrizione tutti i link sono gratuiti non vi costa nulla Questa cosa la sapete già Allora eccoci qua ragazzi Ci ha messo un po' tempo a fare il caricamento Ultimamente con tutti i aggiornamenti che li hanno fatto l'hanno un po' rallentato questo gioia Però speriamo che si vede bene Allora la nave eccola qui ragazzi Era la nostra prima nave gigante Sembra una porta container o una porta petrolio O una petroliera insomma Quindi dovevamo fare Allora facciamoci un attimo il punto della situation Volevamo aggiornare questa qua Mi sa la nostra baracca Volevamo aggiornare Upgrade la baracca Sì volevamo aggiornare questa qua e ci serve I soldi ce li abbiamo Abbiamo 4200 dollari Perché abbiamo venduto anche un po' di materiali Ci serve acciaio temperato Lega di piombo e lega di ghisa Per fare queste cose qua Per fare queste cose qua Quindi Le Acciaio temperato Ci serve Acciaio Acciaio E possiamo fondere i due materiali Poi ci serve Lega di ghisa Che possiamo fare con piombo e ghisa E poi ci serve Dove era Mi sa che cosa No aspetta che cosa serviva Mi sono scordato Upgrade la baracca Ah il rame Il rame che possiamo fare tranquillamente con il rame Quindi Dobbiamo raccogliere un po' queste robe qui Dobbiamo fonderle Quindi Prendiamo la nostra macchina Che ci servirà Che per fortuna abbiamo anche liberato Nello scorso episodio Abbiamo liberato un po' Sia il bagagliato dell'auto Ma soprattutto il nostro zaino Il nostro inventario Perché adesso Questa nave Vedete ancora 0% di Di distruzione La dobbiamo Distruggere Ragazzi Guardate quanto cazzo è grossa La nostra prima nave gigante Ok la possiamo lasciare qua Anciniamo le luci Così si scarica anche la batteria Ce la facciamo a salire Eh un po' È abbastanza grande ragazzi Eh qua c'è il mondo signori Qua c'è il mondo Guardate quanto è grande È solo il ponte della nave Guardate quanto è grande È solo il ponte della nave Allora Cominciamo a Allora che cosa abbiamo Abbiamo acciaio e rame Che a questo ci servono E va bene Quindi prendiamo i nostri attrezzi Abbiamo anche il cannello Questo è un ultimo acquisto Che possiamo utilizzare Però non mo' Ovviamente Prendiamo il nostro martello Vai cominciamo a rompere Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Nelle casse non Ecco vedi Ci trovo ogni tanto Un acciaio arrugginito Che possiamo sempre rivendere Possiamo sempre rivendere Cioè non ci troviamo Sempre tu Poi vedi troviamo Se cose olio Vai spacca Che cosa mi dai Questa Ghisa La ghisa ci serve ragazzi Ovviamente Mo' facciamo una cosa Raccogliamo i materiali Li andiamo a depositare Nel magazzino Della fornace Perché c'è pure una sorta Di magazzino E poi man mano Vediamo cosa fare Oggi facciamo così Oggi dobbiamo Fare l'upgrade Delle strutture Se ci riusciamo Quindi queste non si possono rompe Questa si Ah questo bisogna aprirla Ai vedi Ci sta pure Bellerame E vai Possiamo rompere Anche questo Cioè abbiamo cominciato Proprio a rompe Ragazzi Ma non ho nulla Proprio Cioè lo 0,81% Questa nave Ha tanto da offrirci Ragazzi Guardate pure i bandoni D'olio Cioè C'abbiamo tanta Tanta roba Qua raga possiamo fare Anche A parte che abbiamo preso La commessa Di ghisa Ma non è che Andiamo a vendere Mo' La commessa Ce la siamo lasciate Per Per Che ne so Se ci avanza Otto Otto pezzi Di ghisa La andiamo a vendere Qua mi sembra che non ci dà niente Ah non ci dà qualcosa C'è l'eroginito Ah Usilizziamo il cannello Per la prima volta E vediamo un po' Come funziona Come funziona Scusami Ok Tagliato Ok Eh Hai visto ragazzi A meno abbiamo anche il cannello Mo' possiamo raccogliare la ghisa Ci serve Tanta ghisa E Vabbè Continuiamo a rompere Questo Vai Tutto il martedì C'è il rame Ci dà Vai Vai Ragazzi C'è Non siamo C'è Abbiamo manco rotto Manco il 2% Della nave Però vabbè C'ha Questa nave ci offre tanto 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 Fa tutto l'altro ponte Non so se ci riusciamo A vederla tutta Ma è impossibile Però ci proviamo Ci proviamo Ragazzi Abbiamo quasi raggiunto Anche la capienza Del nostro inventario Però abbiamo ancora l'auto Abbiamo l'auto Da mettere Un sacco di roba Vai Pure qui ci dà l'acciaio Intanto buono Perché noi Nel frattempo Mentre rubiamo Livelliamo pure Quindi aumentiamo di livello Ogni volta che Spacchiamo una cosa Comunque Qua ci dà benzina Perfetto Vai Spacca tutto Il fatto che qua ragazzi Questa nave ci costa Mi sa quasi Quasi mille dollari al giorno O di meno Ma Lì Super giù Costa quasi 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 Allora vai Spacchiamo pure questo Questo è un po' più difficile A rompere Benzina Benzina Acciaio Questo che mi dai Acciaio arrugginito Vabbè Sembra Sembra qualcosa Vai Ah il piombo Qua ci dà il piombo E acciaio Che ci servono Però non so se Eh infatti abbiamo L'inventario pieno Ok Dobbiamo andare Andara però Ma mi fai scendere Oh Allora Apri Ci mettiamo Benzina Che ci andiamo a vendere L'olio ce lo possiamo vendere L'acciaio arrugginito Ce lo possiamo vendere La ghisa no Che ci serve Quindi lo mettiamo qua Acciaio arrugginito Ce lo possiamo vendere Pure questo Tutta roba che ci serve Mettiamo qua sotto Acciaio arrugginito Lo possiamo vendere La ghisa ci serve Acciaio ci serve Il rame Ci serve Ghisa pure E acciaio arrugginito Possiamo vendere Quindi tutta roba Da su in po' La vendiamo Sotto invece Ce la teniamo Ok Quindi continuiamo Abbiamo liberato lo zaino Quindi Poi un sacco di roba Ragazzi Ce la vendiamo Ovviamente Allora Vendiamo il nostro martellazzo Cioè ragazzi Già abbiamo fatto una bella pulita Però eh Ok Olio L'olio Ce lo possiamo vendere Che tanto Per il momento L'olio non ci serve a niente Cioè l'olio Tanto è una cosa molto Cioè si trova subito L'olio è una cosa Che possiamo trovare subito Ragazzi Quindi Diciamo che l'olio È la cosa più comune Che troviamo in una nave L'olio Acciaio arrugginito Queste si trovano subito Gli altri Gli altre cose Invece no Continuiamo Andiamo a rompere La ghisa ci serve Tanto mo Raccogliamo un po' Tutti i materiali Che ci servono Poi vediamo un po' Di fare l'upgrade Anche delle altre strutture Vediamo Di comprarci anche Un'altra struttura Oppure fare la commessa Mo vediamo Quindi oggi Faremo qualcosa In questo episodio Sicuramente per andare avanti Nella nostra azienda Navale Navale Non di costruzione Ma di Di distruzione Insomma Quindi è cosa molto Gioco di parole Gioco di parole Ok Acciaio Vai Qua penso che non c'è niente Qua non mi dai niente Qua non mi dai niente Però vabbè Le rompiamo comunque Perché Ripeto Rompetele sempre Le casse Perché qualcosa Sicuramente ci starà Non sempre troverete qualcosa Però In una nave grossa Come questa Secondo me qualcosa Ci uscirà Intanto se potete vedere Nelle mie spalle Della webcam Siamo anche livellando Guardate la barra gialla Come cresce Perché più spacchiamo le cose Più Ovviamente Livelliamo anche il personaggio Poi vediamo ragazzi Anche qualche abilità Vediamo Di andarla A migliorare Allora Olio Questa Eh Questa non c'è il cannello Eh Ti ho vedi Questo serve il cannello Per romperlo Ma non ce l'abbiamo Spacca Che cosa c'è Niente Allora Qua abbiamo Ah aspetta C'è questa Sblocca Allora vai Vai lupen 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 Un altro pochettino Acciaio Acciaio Ghisa E olio Vedete ragazzi Ogni tanto queste casse Ci danno La cosa Allora Abbiamo Oh aspetta Questo tutto abbiamo Prende Ehi Questo tutto abbiamo Prende Allora Abbiamo ripulito Il nostro primo ponte Vedete La prima parte Del ponte Quindi Abbiamo dato una bella Cosa Ci sta tutta Questa parte Sopra qua E poi scendiamo Sotto ragazzi Perché comunque Guardate quanto è grande A parte questo Che non lo possiamo togliere Che ci manca l'attrezzatura Ma guardate qua Solo questo ponte Quanto è lungo Quindi possiamo Vai rompere questo Quindi Ce lo facciamo A step Se no ragazzi Non ci capiamo niente Rame Intanto abbiamo quasi pieno Quasi l'inventario Ma quindi Questo Questo non ce la fa rompe Vero peccato Cassa Vedete E ora ci ha dato La ghisa Vedete Ogni tanto una cassa Vi da qualcosa Possiamo rompere pure questo Che questo ci serve Però la moletta Quindi Vediamo la nostra mola Ok E ci ha dato Guardate quanto rame Quanto ben di dio Ragazzi Ci ha dato Eh sì Eh questo però Scusa Mi spacchi questa cassa Per favore Eh Qua dobbiamo operare Tra poco Eh eh Dobbiamo lavorare Qua Eh come faccia Prendi la moletta Che si sta pure a consumare Vai vai Eh proprio qua Eh che fa Lo butti Alluminio Ragazzi L'alluminio Sono soldi Possiamo fare anche altre cose Con l'alluminio Vai Così Eh guardate Guardate quanto Eh sì Allora benzina Benzina abbiamo raggiunto La capacità Eh Vabbè Eh ci torniamo dopo Eh ma ragazzi Abbiamo una macchina piena Eh mi fai scende Scusami Ok scendi Grazie Eh scendiamo ragazzi Ci buttiamo ogni volta Allora E apri Allora ci mettiamo L'alluminio Che Vediamo cosa farci Possiamo mettere qua La ghisa ci serve Eh Vabbè Acciaio ci serve pure Il piombo pure E ghisa pure Allora facciamo una cosa E La macchina l'abbiamo riempita Finiamo di riempire Anche la nostra Il nostro zaino Eh ho capito Mamma non mi fa salire però Ok Eh Riempiamo anche il nostro zaino Ragazzi E vediamo un attimo Ah aspetta Ma c'è rimasto Sta parte qua Da rompe Eh qua dobbiamo pulire tutto Ah apri Alluminio Alluminio E rame Qua c'è anche un'altra cassa Che si può rompe Ah Ok Allora Vai Continuiamo Qua benzina Benzina Ok Mettiamoci la nostra moletta E Continuiamo a rompere ragazzi Ah questo il martello si rompe Vabbè Cominciamo a rompere questo Vai Poi ci da alluminio ragazzi Qua è tanta roba Tanta roba Signori Intanto abbiamo livellato Siamo a livello 23 Signori Non so se vi siete accorti Madonna quanta roba Eh qua raga D'alluminio Ci possiamo fare i soldi Allora Spacchiamo pure questi Ci da il rame acciaio arrugginito Che non fa niente Poi vedi qua sotto Eh raga qua sotto pure C'è tanta roba Piano piano Finiamo di rompere tutto Ma questi non li posso rompere più No Questi no Abbiamo già depredato abbastanza Comunque ragazzi Fino a ora abbiamo manco fatto L'8% di distruzione Per farvi capire Quanta roba c'è ancora Ma questo si può rompere Sto bombolone magari Spacchiamo sta cassa Non c'è niente Era giusto per vedere Qua si può salire Dove so Raga dove poteva pure a salire Vediamo Quindi qua c'è ancora Tanto alluminio E tanta roba ancora Vabbè Vabbè Continuiamo Si sta pure a rovinare La lama Dobbiamo pure cambiare la lama Tra poco Eh qua raga Tanta roba ci do Eh abbiamo raggiunto Il pieno carico Vabbè Ragazzi Andiamo sotto Usciamo E andiamo a venderci Un po' tutto No di qua Era di là E vediamo un po' Cominciamo a fondere Qualche materiale Cominciamo a A far qualcosa E vediamo Vediamo un po' Abbiamo Lo zaino E bagagliario Dell'auto pieno Si è fatta anche una certa Come potete vedere Eh qua Il tempo scorre Abbastanza Veloce Il fatto è quale Che dobbiamo vendere Qualcosa Per farci soldi Per poter ripagare La commedia Cioè Pagare la nave Anche per un altro giorno Perché io Vi ripeto Costano soldi A tenere le navi Ormeggiate lì Per romperle Insomma Allora Questo possiamo lasciarlo qua Allora Cosa ci serviva Per fare l'upgrade Della baracca Allora Il rame Dobbiamo fondere il rame Quindi Qua Diciamo Il nostro inventario Del Della cosa Allora Vediamo un po' Allora Per fare il rame Ci serve Accello rugginito No Il rame No Dove sta il rame Scusatemi Aspettate ragazzi C'è un piccolo problema Ah 8 pezzi di rame Ci servono Ok Quindi il rame Non va fuso Ci serve però 6 di ghisa E più 4 di carosene No Scusami Ecco Scusate Ho fatto una cazzata Ci serve Acciaio temperato Quindi 10 acciaio temperato Lega di piombo E lega di ghisa Quindi Acciaio temperato Che si fa Acciaio temperato Questo qua Si fa con acciaio E acciaio Quindi L'acciaio ce l'abbiamo Già qua No Quindi Dobbiamo far così Posare Tutta questa roba qua Dopo questo Ce la vendiamo Ragazzi Prendiamo L'acciaio Che ci serve Acciaio arrugginito E Va bene così La benzina La possiamo lasciare Pure qua Alluminio Dopo ce lo vendiamo Ce lo vendiamo La ghisa Ci serve E questo ci serve Tutto Allora Acciaio temperato Acciaio temperato Quindi si fa Acciaio E acciaio A una fusione Di mille gradi Quindi mettiamo A mille gradi Vai Come combinazione errata Voi mi si pia in giro Acciaio Acciaio Scusa Ah Perdonami Mettere qua A due Mi sa No Ok Era a due No a tre No A due A due Acciaio temperato Ok Vai Eh si Dobbiamo spostare anche una leva Mi sono scordato Vedi questo è il rifiuto Ci ho fatto il rifiuto Ok Quindi l'abbiamo fatti Quanti pezzi ne abbiamo fatti Di acciaio non legato Acciaio temperato è quattro Quindi ce ne serve A meno ancora Quindi Vabbè Lo scarto Possiamo prendere Vabbè Quindi facciamo una cosa Eh Passo un attimo Registrario Dopo Dopo Allora Il rifiuto si mette qua Andiamo a prendere Dall'auto L'acciaio Che ci serve Quindi Acciaio Acciaio Qua ci posiamo il rame Che per il momento Non ci serve L'acciaio Se ne prendiamo Un'altra Uno Vedi Non abbiamo acciaio L'alluminio Lo spostiamo qua E cominciamo a fare Solo le prime leghe Cominciamo a fondere Le prime leghe Che ci servono Quindi Acciaio E acciaio E vediamo Mille gradi c'è A due c'è Vai Vediamo quando ce ne fa Vabbè Ce ne ha fatti un bel po' Vediamo un po' Quando ce ne abbiamo Il totale Quattro Nove Quindi ce ne serve Un'altra uno Io posso dividere Ma che cazzo Ho fatto Posso dividere Un attimo Ok L'abbiamo divisi Perché l'abbiamo divisi Ragazzi Perché io me ne metto Due qua E tre qua A meno Ce ne facciamo Un'altra due tre Capito Ecco qua Preciso ragazzi Preciso Quindi Facciamo il punto Della situation Abbiamo fatto Già Dieci pezzi Di acciaio Legà Acciaio Temperato Quindi Questo ce lo mettiamo qua Perché ci può servire Lo scarto Ce lo vendiamo La ghisa Ci serve L'alluminio Per il momento Ce lo teniamo Quindi ci vendiamo La benzina Benzina Olio Tutto l'acciaio arrugginito Tanto raga Che cazzo Ci dobbiamo fare Con l'acciaio arrugginito Acciaio Un po' Momentaneamente Lascialo qua Alluminio Ghisa Ci serve Acciaio arrugginito Acciaio arrugginito Questa è tutta roba Che ci servirà Adesso Quindi per fare tutto Però tutta questa roba qua Possiamo venderla Quindi Andiamo qua Giovani ragazzi Io ti vendo anche lo scarto Anche un euro Non fa niente Ma è sempre che Non si butta niente qua Si butta niente ragazzi Quindi Continuiamo a vendere Tutta questa roba qua Guardate ragazzi Sono soldi Anche acciaio arrugginito Comunque Sì è vero Abbiamo messo anche l'olio La benzina Tutto quanto Però ragazzi Guardate Sono 600 dollari La commessa Ne costa 200 In più Quindi diciamo Che ci siamo quasi ripagati La La cosa Allora Dentro la macchina Cosa abbiamo Quindi adesso Dobbiamo fare Quindi l'acciaio temperato L'abbiamo fatto Quindi Mo ci serve Lega di piombo La lega di piombo Come si faceva La lega di piombo Lega di piombo Si fa Ghisa E rame Quindi ghisa e rame Quindi ce l'abbiamo qua La ghisa La ghisa ce l'avevamo Allo ghisa E il rame Però lo devo prendere Dalla macchina Rame Eccolo qua Ghisa e rame Però ci serve Tutto il rame possibile Perché Dobbiamo fare tutto Quindi la ghisa L'andiamo a prendere E vediamo Cominciamo a fondere Anche gli altri Gli altri roba Che ci serve Quindi Lega di piombo No Lega di piombo Si fa Con rame E piombo Quindi Ah col piombo Però aspetta Perché Scusa Perché la ghisa Scusami un attimo Raga Scusami Livello 2 Lega di piombo Si Lega di piombo Quindi si fa Con il piombo E il rame Ok Quindi Lega di piombo Ce l'abbiamo Il piombo Il piombo ce l'avevamo Vero Piombo Eccolo qua Però ce l'abbiamo Solo poco di piombo 4 4 e 5 Vabbè la ghisa Non ci serve Per il momento Ma abbiamo solo Uno di piombo Fa vedere Se ce l'abbiamo Qua il piombo Ma non ne dubito Vabbè Facciamo Quindi Lega di piombo Va Piombo Rame E va A 3 Perfetto E la Gradi A 500 Ok E vai Eccolo Sono belle Le leghe Ok E abbiamo fatto Pure questo Quindi ci servirà Il piombo Ragazzi Perché questo Dobbiamo mettere qua Sono tutte le roba Che ci servirà Per fare gli upgrade Delle prossimamente Delle cose Però Eh Io in questo punto Mi venderei anche No il rame ci serve Mettiamolo qua La ghisa ci serve Io a questo punto Mi vendo l'alluminio Pure che non ci serve Questa ci serve tutto Mettiamolo nel magazzino E vediamo un attimo Perché ragazzi Se serve la lega di piombo Non ce l'abbiamo L'alluminio Io me lo vendo tutto Tutto pure qua Benzina Ragazzi Dobbiamo fare Tanto l'alluminio Per il momento Si trova Si trova Noi ci abbiamo Per far soldi Il rame Acciaio arrugginito Tutto ce lo vendiamo Tutto E nella macchina Ci lasciamo solamente Quello che Quello che Tanto ci serve Adesso per fondere Altri materiali Quindi Questo ragazzi Tutto ce lo lasciamo Ghisa La ghisa serve tutto Ok Andiamo qua Ci vendiamo tutto Ragazzi E poi facciamo passare Il prossimo giorno Quindi Ragazzi C'è solo l'alluminio 400 euro Solo di alluminio Signori Eh l'alluminio Guarda qua ragazzi Guadagniamo solo Con alluminio Poi acciaio Ci mettiamo la benzina Ci mettiamo l'olio Ci mettiamo l'acciaio arrugginito E ragazzi Dobbiamo far soldi Se no Non possiamo pagare gli operai Non possiamo pagare Bob L'operaio Dobbiamo fare pure Bob Se ha preso qualcosa Cioè raga 1400 euro Praticamente Ci siamo ripagati Bene bene Praticamente La nave Vabbè Io ragazzi Andrei a dormire Quindi Così a meno Passa anche un altro giorno Fa anche una botta di salvatina Che serve sempre Eh Salvataggio Vedi Salvataggio automatico L'ho salvato Abbiamo ripagato Un altro giorno La nave Che l'abbiamo depredata Quasi al 7% Niente Però ragazzi Abbiamo fatto tanto Anche in questo episodio Io direi Di un'altra salvatina Per Per Farsi Torniamo al nostro Menu principale Dove ci salutiamo Ragazzi Abbiamo fatto tanto Anche su ship grave In questo nuovo gameplay In questo nuovo episodio Del gioco Abbiamo fatto tantissimo Ragazzi Abbiamo comunque Cominciato a depredare A distruggere la nave Già quasi Il ponte avanti L'abbiamo cominciato a rompere Abbiamo fuso Già dei materiali Abbiamo messo al magazzino Quelle che ci serve Pell'upgrade Delle Delle prossime Strutture Che dobbiamo fare E più Abbiamo venduto Un sacco di materiali E un sacco di soldi Perché ragazzi Io voglio mettere Un secondo operaio Un po' più specializzato Anche che ci dà una mano A raccogliere Determinati Determinati materiali In più Quindi perché Bob è bravo a raccogliere Olio Acciaio arrugginito Quindi quello Noi Bob Ce lo teniamo Di caro conto Perché è nostro primo operaio Nostro primo stipendiato Ce lo abbiamo tenuto Poi Voglio prendere Un secondo operaio Specializzato Su qualche materiale Un po' più specifico E più ragazzi Poi dobbiamo aggiornare La baracca Del negozio Perché Voglio comprare Anche altri attrezzi Più specifichi Per continuare A depredare E distruggere sempre più le navi Ragazzi Detto questo Grazie ancora Di essere stati con me Spero che questo video Vi sia piaciuto ragazzi Grazie mille Per il supportazzo Che mi state dando Ragazzi Sotto in iscrizione Tutti i link Mi raccomando Sono gratuiti Spolliciati in su Quali video di questo video Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdere nulla Ragazzi Ci becchiamo Nei prossimi video E like qui sul mio canale youtube O sul tubo violico Ovviamente Troverete in iscrizione Ragazzi Auguri ancora E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi